Nuove tecnologie digitali e metodologie didattiche innovative nelle scuole per superare le difficoltà d'apprendimento e favorire l'inclusione scolastica. Va in questo senso l'avviso pubblico per progetti di didattica innovativa nelle istituzioni scolastiche presentato questa mattina dall'assessore regionale all'istruzione Chiara Biondi. Un avviso che rientra in un processo strategico di sviluppo del sistema formativo regionale predisposto ad offrire modelli di intervento fondati sulla didattica che adotti metodologie di insegnamento alternative alla classica lezione frontale e capaci di intercettare le modalità preferenziali di apprendimento degli studenti dalla quinta elementare fino all'esame di maturità. In questo quadro rientra anche l'apertura all'intelligenza artificiale da trasferire al mondo della scuola. Un progetto importante sulla didattica innovativa con il quale mettiamo a disposizione 8 milioni e 400 mila euro di risorse della programmazione comunitaria perché vogliamo dare una risposta concreta ai nostri giovani in quanto la didattica innovativa è un nuovo strumento per facilitare l'apprendimento dei nostri ragazzi e anche per migliorare comunque le tecniche di insegnamento. Questo bando è un bando che prevede in realtà due canali di finanziamento. Quest'anno nel 2024 finanzieremo 14 progetti di didattica innovativa per un massimo di 200 mila euro a progetto ma soprattutto c'è un progetto regionale sull'intelligenza artificiale con la quale abbiamo messo a disposizione proprio un milione di euro e sarà un progetto pilota soprattutto per avvicinare i nostri ragazzi a quelle che sono le nuove sfide del futuro.